Ciao a tutti, o mi vuoi nella tua vita o non mi vuoi, in amore non esiste un'area grigia. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, cosa fanno, diciamo, come, cosa fanno molte persone? Entrano in, diciamo, in relazione con gli altri in modalità ambigua, nella relazione sentimentale. E si tratta magari di persone impegnate, sposate o persone che hanno altri interessi sentimentali e affettivi, per cui si suddividono su più fronti. Ora, non c'è niente di male in tutto questo, tutto va bene, però se tu vuoi un amore con la maiuscola, devi tenere conto che o entri o esci dalla vita di un'altra persona. Se ti vuoi veramente mettere in gioco, ripeto, non è che uno deve farlo, si può vivere tutto quello che si vuole, ma chiamiamo amore, chiamiamo rapporto di coppia, una situazione di questo genere, in cui tu entri completamente nella vita dell'altra persona e non c'è un'area grigia, una via di mezzo. Perché ci sono molte donne, ad esempio, che ho sentito, anche molti uomini, però soprattutto molte donne che dicono, ah, il mio uomo, parla del loro uomo, poi dopo un po', no, il mio uomo oggi è dalla moglie. Allora, quella lì non è il tuo uomo. Se è dalla moglie sarà il marito della moglie, non è il tuo uomo. No, quindi chiamalo diversamente, chiamalo il tuo amante, chiamalo, che non so, la tua compagnia trasgressiva, chiamalo come vuoi, ma non in questo modo, perché questo è un sovrapporre alle cose, no, non si capisce più. Anche per te, perché queste comunicazioni arrivano interiormente. Ti abitui ad avere un uomo che è sposato con altre, per fare un esempio. Quindi, se tu vuoi definire una relazione, come si deve quella, devi chiuderla. Oppure sei consapevole del tipo di relazione, ma non è il tuo uomo. È uno con cui trasgredisci, fai cose trasgressive, trasgredisci, ma lui è sposato ed è l'uomo, tra virgolette, se possiamo così definirlo, di un'altra donna. Quindi, basta essere chiari. Per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.